proviamo a vedere ancora in questa direzione che contributo di innovazione ci può derivare da un'altra voce quella di OpenMove di cui abbiamo con noi Alessandro Sosi che è il direttore operativo Alessandro Sosi è un grande esperto di questi temi sia sui sistemi applicativi, sul ticketing su tutto quello che serve a far funzionare bene un sistema intelligente di trasporto e quindi un progetto mass prego dottor Sosi Buongiorno a tutti, saluto i colleghi saluto tutti quanti, ringrazio per l'invito un grande esperto forse è eccessivo c'è tanta passione sicuramente e la volontà sicuramente di essere innovativi anche con un approccio come OpenMove che prova a essere disruptive cioè prova a non partire dai preconcetti in molti casi mi riallaccio a quella che è stata la presentazione del dottor Berruti dell'intervento, della presentazione dello studio per sottolineare un paio di dati molto molto interessanti innanzitutto il desiderio di avere intera modalità degli utenti 69% che è un dato incredibile perché mette nero su bianco quella che è la volontà degli utenti qualcosa che probabilmente fino a qualche anno fa non era percepita, non veniva incanalata sotto il termine di intermodalità ma era un desiderio di interconnessione delle possibilità di trasporto è veramente incredibile come l'interazione fra questi servizi si è definita come importantissima questo perché? perché l'utente è sicuramente il driver della rivoluzione massa noi possiamo dire tutto quello che vogliamo fare ottimi discorsi si può a livello centrare anche promuovere questa iniziativa ma di fatto quando e se attecchierà lo decideranno gli utenti finali perché in questo sottile equilibrio tra domande e offerte a livello digitale sicuramente è la domanda poi che trascinerà il mercato futuro del mass quindi l'utente al centro è una delle prospettive fondamentali è il driver principale di questo mercato da questa ricerca si capisce anche che è un utente che probabilmente sa cosa vuole non ha un bisogno latente ma sa anche come si può esprimere altro dato 58,7% degli utenti intervistati pensano che il re delle intermodalità sia l'autobus urbano e extraurbano anche questo è estremamente interessante di fatto conferma quella che era una previsione se vogliamo da parte degli esperti degli addetti ai settori degli ultimi anni ovvero che il TPL è la spina dorsale del mass e deve rimanere tale per la sua capillarità l'abbiamo detto per l'accessibilità anche economica in molti casi non dimentichiamoci che la maggior parte dei fruitori di servizi di trasporto soprattutto a richiesta probabilmente non ha altre possibilità in molti contesti soprattutto urbani trasporto pubblico che è caratterizzato soprattutto da linee PIS quindi da pianificazione già stabilite che quindi costituiscono una rete attorno alla quale deve essere completata un'offerta intermodale quindi probabilmente anche questo è uno dei motivi per cui il trasporto pubblico viene identificato come centrale perché detta le tempistiche secondo degli orari schedulati detta la configurazione di una rete che poi può essere completata da altri servizi magari a domanda magari più flessibili molto interessante anche nella parte desiderata proprio il richiamo al trasporto a chiamata anche questa è una presa di coscienza importante da parte degli utenti trasporto a chiamata che diventa magari una possibilità per riuscire a risolvere il problema del primo e dell'ultimo miglio mascus è una prospettiva di fatto è una prospettiva dove di fatto viene fatto le carte in tavola vengono rimescolate a livello europeo a livello di mass alliance in alcuni studi del 17 del 18 si va a identificare che nella catena del valore della mobilità con questa prospettiva mass nascono due nuovi ruoli nella catena del valore quello del mass integrator e quello del mass operator questi ruoli possono essere interpretati da soggetti differenti sono nella maggior parte dei casi accompagnati da fornitori tecnologici come noi stessi siamo ad esempio e permettono di andare a creare un ecosistema che è differente rispetto a prima o che permette di rispondere alla domanda della mobilità con un taglio differente meno in push da parte dell'offerta più in pull da parte della domanda quindi è la domanda che trascina questa nuova concezione di mobilità soprattutto nel ruolo del mass integrator fondamentale il ruolo delle piattaforme di integrazione o dei livelli di integrazione proprio perché non è detto che sia necessario un solo livello possono esserci vari livelli di integrazione possono esserci dei livelli centrali come il BSN SRF previsto in Mass4Italy possono esserci dei livelli più territoriali che svolgono alcune funzioni come Mass4Italy ci insegna piattaforme di vendita original access point in generale lo dicevo sempre la ricerca molta attenzione alla tecnologia alle app chiaramente l'utente vede le app ma sappiamo tutti che il mass non è un'app il grande lavoro diciamo avviene prima per permettere di avere dei front end delle app che poi finiscano nelle tasche degli utenti molto lavoro molta attenzione alla bigliettazione il collega Russotti lo diceva è necessaria una transizione account based per fare Mass se il trasporto pubblico è la backbone è la spina dorsale del Mass quindi deve essere presente allora per accedere ad esso è necessario che i sistemi di bigliettazione del trasporto pubblico siano account based quindi permettano un accesso scalabile al trasporto dove scalabile appunto è un termine che deriva da tecnico che deriva dall'informatica molto spesso poi bisogna capire come viene affrontata questa scalabilità come viene affrontata questa digitalizzazione che tutti giustamente considerano necessaria e inevitabile concludo dicendo che è molto interessante sempre dalla ricerca che vengano riconosciuti come elementi fondamentali sia la componente tecnologica l'importanza appunto della digitalizzazione che la componente ecologica non a caso digital e green sono le due direttrici portanti poi di tutti gli investimenti del PNRR e anche del green deal europeo quindi una traiettoria che trova per fortuna un po' matching tra quelle che sono le indicazioni europee le indicazioni nazionali ma anche quello che gli utenti tutti noi come cittadini come viaggiatori andiamo a cercare o riconosciamo come importanti in un contesto di mobilità un po' più che sta cambiando a seconda delle possibilità tecnologiche ma soprattutto a seconda dei paradigmi nuovi che altri mercati già spingono bene grazie mille grazie grazie Alessandro Sosi siamo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti